Baccaria Venezia, sestiere di Cannaregio Il baccaro o bacaretto è un tipo di osteria veneziana a carattere popolare, dove si trova una vasta scelta di vini in calice, ombre o bianchetti, e piccoli cibi e spuntini, cicchetti, con pochi posti a sedere e in genere a un lungo bancone vetrinato in cui sono esposti i prodotti in vendita. A grande richiesta cercherò di mostrarvi i miei preferiti, dividendoli per sestiere, cominciando da quello in cui sono nato, cioè Cannaregio. Iniziamo subito con il primo, che si trova all'inizio della strada nuova, la cicchetteria veneziana da Luca e Fred. È a 10 minuti dalla stazione ferroviaria, a tavoli esterni, dove ci si può sedere. Ottimi cicchetti sia di pesce che di carne cotti e crudi, con ottimi vini, ottime le sardi in saor su polenta calda. Io per anni ci andavo dopo la piscina la sera, facevo un'ora di ginnastica per dimagrire e poi in poco tempo rendevo tutto vano, ma con soddisfazione. Ricordo ancora come se fosse ieri, dopo il pette, un stecco di patate e un bianchetto per piasser. Proseguendo per la strada nuova, sempre sulla destra, all'altezza di San Marcuola, veniamo attirati da questo locale, a Edo Colonne, con le botti in legno poste all'esterno. Verrete colpiti dal grande bancone, strapieno di paninetti imbottiti con salumi e formaggi, da sandwich di pane nero, mozzarella in carrozza, polpette, calamari, fiori di zucca, sarde fritte o musetto con polenta, crostini e anche qualche piatto caldo della cucina veneziana. Anni fa ero un ospite fisso, andavo sempre con una mia cara amica, Francesca, che saluto, e ricordo con affetto una sera che d'inverno aveva fatto tanta neve, faceva molto freddo, ma loro erano aperti e noi eravamo là. Da qua ci spostiamo verso Fondamento Ormesini e la Fondamento della Misericordia, che ha più di 10 locali tra baretti e ristoranti. Io ne ho scelti due, di cui il primo, Altimon, è molto caratteristico. Anche qui tappa d'obbligo, ottimi vini e cicchetti veneziani. La particolarità di questo posto però si trova all'esterno. Oltre ai tavolini rustici disposti sulla calle, ci si può sedere addirittura su un barcone ormeggiato nel canale. Il locale è vicino al ghetto ebraico, va scelto per i pezzettini di pane fresco con patè di fegato d'anatra, pomodori secchi succosi e formaggio di carpa friabile, mozzarella e pomodoro fresco o per la polenta grigliata con il pesce. L'interno è accogliente e ampio, con molto legno, pareti con mattoni a vista e arredi che richiamano il nome marinaresco. Una lavagna nera riporta i prezzi dei vini, anche se il bancone con i cicchetti è a rubare la scena. Comunque accanto ai cicchetti dalla cucina escono tra le altre proposte enormi taglieri di carne accompagnati da verdure e patate. Sono riuscito a convincervi? Proseguendo per la fondamenta, vi consiglio da vino vero, baccaretto con una carta di vini ottima, tanto che non si possono chiedere spritz, ma soprattutto una varietà e bontà di cicchetti che difficilmente si trova in altri baccari. Più piccolo del precedente, con diversi tavoli all'esterno, gioco un po' più sulla qualità, anche se vi devo dire la verità, se vai sui baccari giusti, difficilmente sbagli. Spero voi capiate la difficoltà per me di trovare sempre parole diverse per elogiare cibi che sono veramente ottimi, per quanto una possa preferire più cicchetti di carne o pesce. E sto facendo un sestiere. Riuscirò a fare tutti gli altri? E' così. E questo ti dico, sabato questo non ce la fa. Finita la stranova, si arriverà in campo a Santi Apostoli, in cui ben nascosta, a Venezia le cose migliori sono così, troverete non solo un baccaro, ma un'osteria, delle migliori a Venezia, ai promessi sposi. All'entrata avrete il bancone con la vetrata, dei buonissimi cicchetti da consumarsi in piedi, ma vi consiglio di fermarvi a pranzo o a cena, nelle due salette, una interna e una esterna, per assaggiare quei piatti tipici della laguna che avete sempre sognato di assaggiare. E il prezzo è giusto, tranquilli. Sappiate che quando ero giovine, ci avevo portato una ragazza bellissima a cena. Ero tutto contento, peccato che quando c'era da pagare, io ho pagato con la carta di credito che non funzionava, quindi pagò lei. Per finire vi cito una trattoria a me tanto cara, sempre in strada nuova, che però ultimamente è sempre chiusa, forse perché non ha il plateatico e quindi aspetta tempi migliori. Alla trattoria alla vedova dovete assolutamente passare per gli ottimi cicchetti per la cucina, ma soprattutto per assaggiare le sue famose polpette di carne, non ve ne pentirete. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete e vi ricordo che sulla descrizione del video ci sono dei link di Amazon di alcuni libri su Venezia. Se entrerete per quei link per i vostri acquisti, non necessariamente per i libri, potrete aiutare il canale senza spendere nulla in più. Vi ringrazio. Iscriviti! 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 Iscriviti!